Mia nonna mi ha insegnato a conoscere le erbe spontanee fin da quando ero piccolissima. Mi portava nei campi e mi faceva raccogliere e poi quello che raccoglievamo usavamo in cucina e quindi io faccio questo da quando sono nata. In questo libro ho raccolto la memoria storica di nonna, 38 schede di 38 erbe del nostro tradizionale prebogiorno. Vi aspetto alla fiera del libro di imperio.